Buongiorno da Bruxelles. Stamattina si è tenuta la riunione congiunta delle commissioni Econ ed EMPL, competenti per le politiche economiche e monetarie dell'Unione Europea e per le politiche del lavoro, per il dialogo economico sul pacchetto autunnale del semestre europeo per il 2021, con il vicepresidente della Commissione Europea per un'economia per i cittadini, Valdis Dombrovskis, con il commissario per l'economia, Paolo Gentiloni, e con il commissario per il lavoro e i diritti sociali Nicholas Schmidt. La discussione si è concentrata sulle modifiche procedurali alle regole del semestre europeo, il sistema che punta la convergenza delle politiche economiche degli Stati membri attraverso l'invio annuale di raccomandazioni specifiche per Paese sulle riforme da adottare e sui vincoli di bilancio da rispettare. Molti deputati, inclusa me, hanno chiesto chiarimenti anticipazioni sulle previste modifiche al patto di stabilità e di crescita. In particolare per ridurre l'incertezza sul quadro regolatorio europeo a partire dal 2022, quando la General Escape Clause, cioè la clausola di salvaguardia che sospende i vincoli di bilancio, verrà ritirata e l'obiettivo di pareggio di bilancio, insieme al tetto al debito pubblico sovrano, fissato al 60% del PIL, torneranno in vigore. La risposta dei commissari è stata vaga. Hanno ribadito che la valutazione del quadro macroeconomico europeo verrà fatta ad aprile 2021 e prima di quella data non è possibile pronunciarsi. Il vicepresidente Dombrovskis ha però affermato che c'è consapevolezza della necessità di neutralizzare gli effetti prociclici del patto di stabilità già visti negli anni successivi alla crisi finanziaria e su questo aspetto si punta ad intervenire. Rimane quindi al momento obbligatorio per i Paesi membri esporre nel dettaglio nel proprio programma di stabilità e convergenza come intendono garantire la sostenibilità del proprio debito nella fase attuale. Le raccomandazioni specifiche per Paese e in particolare quelle per l'Eurozona insieme alle priorità politiche europee in tema di green deal e digitale saranno dunque la cornice entro cui gli Stati membri dovranno scrivere i propri piani di riforma e resilienza. I Paesi che li presenteranno riceveranno le raccomandazioni solo in materia di bilancio ove necessario, mentre restano ancora da adottare a livello europeo i sistemi di monitoraggio delle riforme degli investimenti finanziari del Fondo per la Ripresa, cosiddetto RRF. Il commissario Schmidt ha lodato gli effetti del Fondo Sure nel sostenere l'occupazione nell'attuale fase di crisi. Io ho richiamato la sua attenzione sulla necessità di rivedere urgentemente il regolamento europeo CRR sulle sofferenze bancarie, in particolare riguardo alla definizione di default dei clienti in ritardo nei pagamenti verso le banche di oltre 90 giorni, nonché sul calendario di copertura dei crediti deteriorati con adeguate riserve, che costringe gli istituti di credito ad accantonare ingenti somme sottraendole al credito alle imprese, ma anche a svendere i crediti deteriorati a società di recupero crediti che poi si accaniscono sui debitori in difficoltà provocandone il fallimento. Queste norme faranno fallire migliaia di piccole e medie imprese e produrranno di conseguenza la perdita di milioni di posti di lavoro, fenomeno peraltro già in atto a seguito delle misure di contenimento della pandemia. Ad oggi però, nonostante gli appelli presentati dai membri di Econ della Lega e alle preoccupazioni espresse dagli stakeholders e dallo stesso Presidente del Consiglio di Vigilanza Bancario presso la BCE, Andrea Enria, la Commissione non ha ritenuto né di rispondere né di predisporre alcun intervento in materia. Per concludere ricordo che l'accordo sul quadro finanziario pluriannale è ancora bloccato dal veto di Polonia e Ungheria scaturito dalle condizionalità loro imposte dal Consiglio europeo sullo Stato di diritto, tramite un regolamento che esorbita notevolmente dai limiti di tale questione. In questo quadro di assoluta incertezza gli Stati membri sono chiamati comunque a programmare le proprie politiche economiche e fiscali per il 2021. Per oggi da Bruxelles è tutto, buona giornata e a presto.